Ciao, sono la dottoressa Manuela Sappracone. Cosa non devi fare se il tuo neonato ha la tosse o il raffreddore? Il mio consiglio è quello di non aggiungere nelle sue pietanze, nelle sue pappe, formaggio oppure latticini e derivati. Perché? Perché questi aumentano proprio la produzione di muco a livello delle vie respiratorie, quindi potresti ottenere un aumento della sintomatologia. Il miele è un ottimo sedativo della tosse, però alcuni studi hanno dimostrato che è meglio non utilizzarlo nei bambini sotto l'anno di età. I mucolitici vanno utilizzati con molta cautela e solo nei bambini dai due anni in su, perché possono avere effetti collaterali. I decongestionanti nasali non vanno utilizzati nei bambini sotto i 12 anni di età e comunque è meglio sentire il parere di un medico o del farmacista, perché essendo dei vasocostrittori possono causare diversi effetti collaterali sia nell'adulto ma in particolar modo nel bambino, quindi facciamo attenzione. Ed infine ti sconsiglio di utilizzare antibiotici se non prescritti dal medico. Mai fare di testa propria, perché nella maggior parte dei casi l'antibiotico non serve. Quindi se il bambino ha febbre o vedi un peggioramento delle condizioni, è meglio sentire un medico. Ciao e arrivederci al prossimo consiglio. Ciao.